Dopo 10 anni di viaggio e più di 6 miliardi e mezzo di chilometri immacinati nello spazio, la sonda Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea, raggiunta lo scorso agosto la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, si appresta a compiere il passo più ardito, qualcosa che mai prima d'ora era stato fatto, far posare un veicolo spaziale creato dall'uomo sulla superficie di una cometa. Questo veicolo si chiama FILE e, secondo i programmi attuali, dovrebbe toccare la Gerasimenko domani nel tardo pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti dal centro operativo dell'ESA a Darmstadt in Germania sono rassicuranti. Gli operatori di missione hanno caricato nei computer di bordo di Rosetta i comandi per la separazione e la discesa del lander, ma anche quelli per l'attivazione dei suoi 10 strumenti, che raccoglieranno dati sulle proprietà del nucleo cometario già durante l'avvicinamento. Bisognerà comunque attendere le ultime verifiche tecniche di questa notte, dalle quali arriverà la conferma definitiva alla separazione del lander dalla sonda madre, che dovrebbe avvenire nelle prime ore di domani. Nel mentre viene modificata anche l'orbita della sonda, che da 10 chilometri di quota attuali si porterà a 22, per meglio gestire la delicata fase di distacco e avvicinamento di file. Il suo bersaglio, la regione ribattezzata Gilchia, è stato selezionato dal team di missione lo scorso 15 settembre. Nonostante l'ottimismo e la tranquillità mostrata dal team di Rosetta, l'abordaggio alla cometa non sarà una passeggiata. Non si conosce infatti con precisione la configurazione del terreno, dove file poggerà le sue tre zampe metalliche, né la sua consistenza. Determinante per consentire agli arpioni del lander di fare il loro lavoro e tenerlo così ancorato alla superficie della cometa. La suspense per questa nuova, storica pagina dell'esplorazione dello spazio è altissima, come d'altra parte l'attesa per i risultati scientifici che file potrà raccogliere e inviarci, anche grazie al suo sistema di perforazione e analisi dei materiali, che ci diranno con precisione di cose composte il nucleo della cometa. Seguite con noi questo eccezionale evento. Media INAF rilancerà sul suo portale, a partire dalle 13 di domani, la diretta streaming dell'accometaggio e seguirà, dalla sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, le fasi finali dell'avvicinamento, per raccontarvi le ultime notizie sull'esito della delicata manovra. Grazie a tutti.